40, proveniente da Bolzano, è in arrivo al binario 9. Attenzioni, allontanarsi dalla linea gatta. Il treno regionale 72, 17 per le ore 12 per dei metri, è in partenza dal binario 17. Attenzioni, il binario è occupato anche da un altro treno che sosta in corrispondenza del panorama 1. Attenzioni, allontanarsi dalla linea gatta.